e come tutti come tutti anch'io anch'io mi sono messo dentro a questa a questa onda di vedere di vedere il trailer di biancaneve allora lasciando lasciamo perdere per questa volta il calcio per chi vuole vedere questo video in questo qua sono impressioni miei personali ho visto il trailer di biancaneve tanti hanno criticato hanno criticato il personaggio i nani e devo dire devo dire che forse 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 ovviamente hanno ragione hanno ragione non è perché l'hanno detto loro mi sono mi sono un po ho guardato ho guardato attorno così mi sono fatto una mia idea e adesso esprimo il mio il mio parere allora tanti sono lamentati per per la protagonista per per i nani e anche per la per la regina però ragazzi hanno ragione hanno ragione perché si diciamo i nì allora vi dico la mia il mio pensiero biancaneve come protagonista in questo live action potrebbe anche andare anche se non è perfetta allora diciamo che in grandi in grandi linee il personaggio può andare bene nella nel cartone originale del 37 diciamo che le fattezze possono anche essere però diciamo dopo dopo dipende anche da dall'interpretazione del dell'attrice perché abbiamo visto solo il primo trailer diciamo che ovviamente sarà anche un altro un altro trailer un altri due presso a poco perché con uno non abbiamo non abbiamo detto niente non c'è niente da dire da da criticare però diciamo che ci sono già ci sono già del delle controverse di polemiche diciamo che a grandi linee come ambientazioni diciamo è perfetto è perfetto diciamo nel nel suo nel suo sapere saper vivere diciamo le emozioni del cartone quello è uguale le musiche un po' arrangiate perché le musiche sono un po' arrangiate modificate poi vediamo di capire anche le musiche ma soprattutto i dialoghi i dialoghi perché dobbiamo capire se per caso vogliono proprio a fare proprio l'originale ma cambieranno un pochettino di parole di termini e di discorsi penso ma grosso modo diciamo le parole non è che cambieranno più di tanto però il contesto c'è già però diciamo che la strega grimilde diciamo è vero questa cosa qui è vero ve le do atto è più bella di bianconeve perché diciamo che pensavo che era un pochettino non tanto non tanto un po' più vecchia no non di tanto ma un pochettino più vecchia perché la rappresentazione la rappresentazione del cartone la vediamo un po' un po' più magretta di faccia carità erano i primi i primi i primi disegni fatti il primo capolavoro della Walt Disney carità però diciamo pensavo che prendevano un'attrice un po' più un po' più diciamo magretta nel viso perché sì no questa qua è troppo è troppo diciamo piacente perché ti perché ti ti fa capire che è un po' più è un po' più piacente di bianconeve perché bianconeve diciamo che volevano a vederla un pochettino un po' più un po' più ragazzina diciamo che nel nel cartone diciamo che aveva sui sui 14 anni 14 anni qui più o meno adesso non so sono sono discussioni troppo presto per per dirle però diciamo che a grandi linee diciamo che diciamo che ci avviciniamo la strega è un po' più giovane ecco però diciamo dopo vediamo in in veste di di vecchia come la come come viene come verrà interpretata diciamo però però grosso modo noi vogliamo vedere anche la trasformazione dei dei la trasformazione anche sì dopo parliamo anche dei nani dei nani però il grosso il il grosso la grossa voglia diciamo di di vedere biancaneve è la trasformazione della strega in vecchia e là ragazzi nel nel 37 il primo film l'animazione abbiamo abbiamo visto che ti fa un po' un po' così perché ragazzi io vedendolo anche adesso la prima trasformazione di un villain cattivo che si trasforma proprio con una con una formula magica in vecchia cioè ti fa tutto la ti fa tutto vedere la trasformazione è una cosa terrificante tanti la tanti la 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 dicono come una 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 scena horror ci sta ci sta anche anche quando scende nei scalini che c'è il il teschio che dice che sei te devi allora vabbè c'è dopo la dipendendo dal doppiaggio non possiamo prendere il doppiaggio originale e metterlo qua devono un pochettino a fare un equilibrio tra adesso prendiamo la strega in contesto serio nel nel contesto in cui è la matrigna e in contesto che è vecchia cioè la trasformazione non può essere non può essere fatta in maniera semplice semplice e diretta no no devono devono capire adesso non so come lo trasformeranno la la diciamo la la magia però noi la vogliamo non dico perfetta uguale però grosso modo grosso modo che devono prendere qui 30 30 secondi oppure anche un minuto un minuto non dico tanto di trasformazione a posto noi siamo contenti così non che prendono con con come diciamo con un lenzuolo e fatta la trasformazione no quello no però un pochettino di effetti speciali fatti bene fatti bene diciamo anche non 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 dimentichiamo anche gli effetti sonori gli effetti sonori sono una cosa per per il per il cartone una cosa bellissima una cosa bellissima fatta bene però in live action devono un po' semplificare le cose devono un po' semplificare le cose per per non ingrandire tanto il dettaglio perché generalmente in live action abbiamo ho notato o anche o anche tutti hanno notato che vanno a perdere un pochettino di dettaglio in più un po' di dettaglio in più e là ci ci fa storgere un po' il naso punto e niente io spero che metteranno un po' di effetti sonori in più non dico uguali però che si avvicinano però a me mi piacerebbe che che farebbero questo almeno per me anche anche per per tanti che non dicono sono fan di biancaneve però il primo live action della disney il primo live action il primo cartone scusate il primo cartone della della whole disney vogliono che venga fatta un pochettino discretamente bene quindi ragazzi per quanto riguarda i nani per quanto riguarda i nani è lì ragazzi è dura prendere delle persone affetti da d'ananismo e metterli e metterli nel live action e gli ragazzi c'è poco da fare prenderanno la non so il tutte le effetti a computer oppure il motion capture metteranno un pochettino di fattezze che non so ditemi nei commenti come come penserate come come penserete che come come avete visto i nani nel nel trailer a me non mi convincono a me non mi convincono dopo bisogna vedere anche come parleranno il doppiaggio perché noi io personalmente voglio vedere un po' il doppiaggio anche se non sarà uguale del 37 però però dai cercheranno un po' di modernarla però diciamo che se vogliono un altro un altro punto a sfavore che tanti hanno hanno criticato le faccende domestiche perché gli fanno fare ai nani le faccende domestiche se nel nel film di animazione era 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 lei che faceva le 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 pulizie eh oppure prendeva vabbè ok avete capito prendeva prendeva la scopa e ok vai dai per carità per carità il periodo è cambiato non dico non dico neanche di no però un pochettino un pochettino un pochettino bisogna che prendano un pochettino all'originale eh cioè appunto dai ragazzi comunque dai adesso vedremo vedremo dai eh trovo presto per per dire ma per però dai vediamo un po' vediamo un po' dai un video diverso un video diverso un video diverso vediamo quanti quanti vedranno questo video io sinceramente eh beh ci tengo a vedere la trasformazione un pochettino come si comporteranno i nani ambientazioni ci siamo storia vediamo e e niente la strega troppo giovane bianca neve ci può stare però diciamo come fattezze diciamo nì nì ma anche ma neanche no più di tanto non lo so ragazzi non lo so la vediamo tal la vediamo talmente non lo so più più la vediamo più giovane la strega che che bianca neve anche se è giovane bianca neve però diciamo come fattezze ci siamo però diciamo come vediamo il comportamento vediamo il comportamento dell'attrice come come verrà eh fatto eh su schermo come vedrà vedrà visto in schermo vedremo 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 dopo ho visto ho sentito le critiche sul sul film di animazione che eh poi l'attrice voleva cambiare per il fatto va bene sì il fatto eh va bene solite solite cose mh però diciamo che vediamo un po' vediamo un po' come verrà fuori il il tratto finale del del film vediamo ragazzi a posto a posto dai eh mi sono dilungato più di tanto però dai sto volevo un po' dire la mia pochino ho avuto un pochettino di di tratto cioè di 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 mi sono un po' dilungato però per chi vuole vedere questo video è diverso da diverso da dai calcio dai a posto dai ok ciao ragazzi a posto io ho fatto la mia impressione sul sul trailer dopo per chi vuole ascoltare venga qui e provo a ascoltare anche se non sono un dilungatore di 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 cinema però ho detto la mia dopo ragazzi è anche difficile a a dire le robe a caldo dopo il primo trailer visto come come tutti però dai vediamo 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 come come verrà fuori va bene ciao ragazzi ci sentiamo alla prossima ciao